Buonasera da Marco Capulli, ben trovati con l'informazione di Arezzo TV. Anche la sezione aretina dell'associazione La Racchetta è intervenuta nei territori alluvionati della Toscana insieme alle sezioni di Cascina, Cerbaia, Montelupo, Mostert, Spertoli, Scandicci, Lastra, Signa e Sesto Fiorentino per svuotare dal fango e dall'acqua gli scantinati di abitazioni, rimuovere i detriti delle frane e gli alberi caduti sulle strade. Stivali ai piedi e palle in mano hanno svuotato scantinati e abitazioni e sono intervenuti per frane ed alberi caduti. Ci sono anche loro tra gli angeli del fango e volontari aretini della racchetta. Subito dopo l'alluvione il grande meccanismo della solidarietà si è messo in moto. Dallo scorso venerdì tutte e 31 le sezioni regionali dell'associazione di volontariato hanno messo a disposizione mezzi, drovore e attrezzature di vario genere e personale. In tutto oltre 50 squadre con circa 200 operatori specializzati sono arrivati negli ultimi giorni nelle zone alluvionate da Ponte Dera a Prato sino a Campi Bisenzio. Altre 20 squadre invece sono già pronte a partire. La destinazione sarà decisa in base alle necessità. Circa 15 volontari aretini che in questi giorni si sono avvicendati nelle zone interessate dall'alluvione. A distanza di giorni ancora molti il lavoro da fare, scantinati da svuotare, poi la rimozione di tutto quanto andato distrutto, ricordi di famiglia e vita quotidiana in un attimo spazzati per sempre. Una nota positiva però, intanto buio c'è. I giovani impegnati nel dare aiuto, commenta Flavio Sisi, responsabile della sezione aretina della racchetta. Ragazzi che spontaneamente si avvicinano, zaino in spalle e palle in mano, iniziano a lavorare. Gli angeli del fango chiosa una storia vera che si ripete, seppur triste, una storia d'amore. La protezione civile della Toscana ha confermato ed è tuttora in corso l'alerta meteo con codice arancione per la parte nord-est della regione e codice giallo per il resto dei territori compresi quello della nostra provincia di Arezzo fino alle 14 di domani, venerdì, per l'arrivo di una nuova perturbazione atlantica. Sono attesi piogge e rovesci in tutta la regione, nella nostra provincia si prevedono precipitazioni sparse e anche di carattere temporalesco, soprattutto nella notte. Nella mattinata di domani i fenomeni andranno ad attenuarsi ma in serata sono attesi nuovi rovesci e temporali e le precipitazioni più intense saranno per le zone del Mugello, Casentino, Prato Magno e i rilievi interni. Rimaniamo in ambito di maltempo perché l'alluvione che ha colpito la parte della Toscana ha riacceso i riflettori sulla manutenzione e la sicurezza dei corsi d'acqua e la rete fognaria anche nel nostro territorio. Ad Arezzo in via Romana per la messa in sicurezza delle condotte sarà realizzato un collettore che impegnerà nuove acque ai comuni di Arezzo con una spesa di un milione e mezzo di euro. Chiara Sadotti. Quando sarà tutto completato effettivamente avremo un'area molto più sicura nella speranza che chiaramente non si riverifiano poi più quegli eventi o quegli effetti che hanno provato dei danni e dei problemi a cittadini che abitano in quella zona. Era il luglio del 2019 quando via Romana finì sott'acqua. In questi giorni drammatici per la Toscana con zone alluvionate da Livorno a Prato e Campi Bisenzio l'attenzione si riaccende anche ad Arezzo. Oggi in questa zona alle porte della città che da anni segnala criticità si è concluso il primo step per l'adeguamento del sistema fognario. Un nuovo collettore lungo mezzo chilometro, sei collettori secondari e tre pompe idrovore in grado di sollevare sino a 900 litri di acqua al secondo. Un investimento complessivo di un milione e mezzo di euro ripartiti tra nuove acque e comune di Arezzo. Quindi sono acque di pioggia che non erano collettate precedentemente quindi è una competenza anche al limite di quelle nuove acque ma ci siamo assunti concordamente col comune di Arezzo il coordinamento del progetto. Quindi il primo lotto che attualmente è concluso consiste in decollettori nuovi quindi tubazioni dedicate a intercettare le acque di pioggia che vanno recapitate nel torrente vingone con una sicurezza in più che in caso ci fossero delle portate molto importanti anche nel fiume che impediscano lo smaltimento c'è una stazione di sollevamento che permette appunto di scaricarle completamente. Questo dovrebbe alleggerire tutta la parte diciamo in destra di via romana entrando nella città. A breve partiranno anche i lavori del secondo lotto che riguarderanno la realizzazione di un collettore principale in via romana lungo circa 460 metri per un importo totale di lavori di circa un milione e mezzo. Con il prossimo lotto andremo a interessare il torrente Sellina che saranno i due bacini naturali che raccoglieranno le acque meteoriche appunto regimate da queste opere realizzate in compartecipazione con il comune. Ci tengo a ribadire c'è la variabile indipendente che è quanto piove ovviamente quando si progettano queste opere non si progettano per eventi diciamo infiniti, si progettano per certi eventi e quindi nella speranza che non si manifestano sul nostro territorio eventi ben più importanti. Ed il comune tramite AISA ha messo a disposizione delle province di Firenze, Prato e Pistoia colpite dall'alluvione gli impianti per lo smaltimento dei rifiuti che si sono venuti a creare a causa dei danni provocati dalle conseguenze degli allagamenti. Per adesso le nostre capacità ci consentono di mettere a disposizione 4.000 tonnellate di spazi per l'organico e 3.000 per i rifiuti ingombranti. Questo corrisponde grossomodo a un 400 camion, compattatori per l'organico e a un 300 walking floor per gli ingombranti. Metteremo anche a disposizione 4 persone, 4 ispettori ambientali della nostra società controllata gestione ambientale. All'impianto di San Zeno arriveranno così tonnellate di rifiuti dalle zone alluvionate. L'ondata di maltempo che ha violentemente colpito i comuni tra Firenze, Prato e Pistoia provocando vittime e danni enormi ha anche messo fuori uso alcuni dei principali impianti di trattamento rifiuti della Toscana oltre a comportare una produzione eccezionale di rifiuti ingombranti. Il comune di Arezzo tramite AISA impianti ha così messo a disposizione la struttura per lo smaltimento da qui fino alla fine dell'anno. Tra i danni alla fine del Salmo oggi si tratta di fare in modo di poter smaltire tutta quella grande quantità di rifiuti che deriva dagli allagamenti nelle cantine, nei magazzini, in tutti quei luoghi dove sono arrivate le acque dei corsi d'acqua che hanno esondato. Ed è un grosso problema, un problema che abbiamo visto a difficoltà di soluzione all'interno della Toscana per cui si prevedono di dover mandare fuori dalla Toscana una parte significativa di questi rifiuti. Allora Arezzo tende una mano, cioè noi abbiamo un impianto modello, un impianto che funziona, che ha ancora spazi per poter accogliere una parte dell'organico e dell'indifferenziato che è stato prodotto durante il periodo dell'alluvione. È molto importante sottolineare che questi impianti sono strategici nazionali e hanno quella ridondanza, quella capacità appunto sussidiaria proprio quando succedono queste cose e che ricorrere all'utilizzo di impianti di questo tipo va comunque anche ad attenuare quelli che sono i gravissimi impatti ambientali che purtroppo queste situazioni creano. Infine l'invito e l'appello del Sindaco ai suoi concittadini. ...di ridurre per quanto gli riuscirà la produzione di organico e di indifferenziato per dar spazio all'arrivo di questi rifiuti che vengono dall'area fiorentina. Cambiamo argomento dopo la lunga pagina dedicata al meteo e all'alluvione che ha colpito la parte nord-occidentale della nostra regione. Parliamo dei lavori in via Fiorentina. l'assessore Sacchetti rassicura via Fiorentina riaprirà il traffico entro il 17 di novembre. Sentiamo. Il 17 e forse anche prima dalle notizie ultime che ho che verrà riaperto, verrà riaperta la strada perché scade l'ordinanza e quindi era un impegno preso anche con l'associazione di categorie di riaprire la strada nella sua completa funzionalità. I lavori adesso finalmente proseguono spediti e si concluderanno entro la data prevista nel cronoprogramma che tra l'altro coincide con la partenza della città del Natale. Entro quella data via Fiorentina sarà così riaperta. So che finita questo tipo di lavorazione verrà ripristinata la pavimentazione e quindi riaperta la strada. Il cantiere si era aperto tra le lamentele dei residenti e negozianti che in più occasioni avevano segnalato di sentirsi tagliati fuori dalla città. I banchi piene di roba, lavori con questa gente che ti viene a piedi ma meno della metà delle persone. Il pane una volta fatta a fine giornata ve le buttate. Esatto, non è roba che puoi rivendere il giorno dopo. Se una lumaca vuole attraversare da marciapiede a marciapiede lo può fare tranquillamente e non rischia nulla e dentro i negozi come vede non c'è assolutamente folla. Ad accendere poi ancora più le polemiche alcuni giorni di stand by dovuti al maltempo e al mancato arrivo di una perforatrice adesso arrivata e già in funzione. Commercianti e associazioni di categoria avevano così richiesto ristori per i danni economici subiti tra le ipotesi avanzate anche quella della sospensione dell'Atari. Un po' di rispetto c'è stato però è chiaro che per risolvere problemati che hanno un interesse comune bisogna anche fare ognuno di noi qualche piccolo sacrificio. non lo so se questo è stato un piccolo o un grande sacrificio, quello dell'impegno che ci si era dato era quando abbiamo visto l'associazione di categoria era quella comunque di realizzare, di vedere se c'era la possibilità di realizzare comunque uno sfogo e quindi una transitabilità anche durante i lavori e questa c'è stata perché comunque come dire c'è la svolta a destra che è stata garantita e poi di terminare i lavori come ribadisco entro i termini previsti dall'ordinanza. Poi se questo costituisce un elemento per comunque chiedere un ristoro dell'Atari, ecco questo però io non ho la mia competenza, c'è l'assessore Merelli, andrà fatto un'istanza ufficiale. Il reparto di pediatria di Arezzo è impegnato in questi giorni nella prevenzione di agnosi precoce della bronchiolite acuta causata dal virus sinciziale. Raffreddore e tosse possono essere i primi sintomi che i piccoli al di sotto dei sei mesi d'età possono manifestare a causa di questo virus. In questi giorni è stata avviata una sorveglianza attiva in tutti i piccoli che giungono al pronto soccorso dell'ospedale San Donato di Arezzo. Sentiamo. Una sorveglianza attiva su tutti i casi di bambini trattenuti in pronto soccorso ricoverati in degenza per infezioni respiratorie in collaborazione con l'ospedale Meyer. Grazie a questo progetto di ricerca e al supporto del laboratorio di microbiologia all'ospedale San Donato di Arezzo si cerca di intercettare precocemente l'arrivo dell'epidemia del virus sinciziale che già sta portando i primi casi. La diagnosi precoce permette infatti di migliorare la cura in ospedale. Il virus è una nostra vecchia conoscenza, spiega il dottor Marco Martini, direttore della pediatria. Da molti anni infatti siamo abituati ad affrontarlo nel periodo autunno-inverno e a prevenire le conseguenze in neonati fragili. I prematuri e cardiopatici da alcuni anni vengono infatti selezionati per ricevere mensilmente un anticorpo monoclonale specifico nei mesi da novembre ad aprile. Il virus è la causa principale della bronchiolite acuta, patologia infiammatoria delle basse vie aeree che colpisce particolarmente i bambini al di sotto dei 12 mesi di vita. L'infezione può essere particolarmente gravosa nei piccoli al di sotto dei 6 mesi, potendo causare difficoltà respiratorie e alle volte anche necessità di ricovero. Nella maggioranza dei casi il lattante viene contagiato da un fratellino o una sorellina più grande che di solito frequenta il nido o la scuola materna. I sintomi sono raffreddore e tosse, in generale senza febbre, ma in grado di contagiare. Trattandosi di un virus che contagia prevalentemente per via aerea, le misure di prevenzione sono le stesse che riguardano tutti i virus respiratori. Distanziamento, mascherine e lavaggio delle mani sono quelle più importanti. Il nuovo consiglio della Camera di Commercio Arezzo-Siena prende forma. I membri saranno 25, 8 in meno rispetto all'ultimo mandato a seguito della legge sulle fusioni. Per la presidenza potrebbe essere riconfermato Guasconi con Butali vicevicario. La giunta sarà composta da 8 membri scelti dai consiglieri. Oltre a Guasconi e Butali potrebbero farne parte Bernini, Landi e Vannetti e probabilmente un esponente di CNA Arezzo e Confesercenti Siena e uno per il mondo dell'agricoltura. Una famiglia di Tegoleto lancia un appello sui social per ritrovare Giorgino, un cucciolo di lepre, svezzato e allevato in casa e scomparso da alcuni giorni. Greta Settimelli. Lui è Giorgino, un leprotto ritrovato da una famiglia di Tegoleto nel comune di Civitella in Valdichiana, ancora cucciolo. Da batuffolo di pelo quale era è stato allattato e svezzato tra le mura domestiche grazie anche ai consigli di un veterinario. Poi le prime esperienze nel giardino di casa, ma a sera guai a non riaprire per farlo rientrare. Da domenica è scomparso e la famiglia, come tutti faremmo per un nostro animale domestico, ha lanciato un appello. Buongiorno a tutti, è un post particolare, so già che molti non lo prenderanno sul serio, ma ci provo lo stesso. Scrive così la famiglia in un gruppo social di Civitella in Valdichiana. La storia è indubbiamente particolare ed è più che comprensibile la prensione per quello che ormai è diventato un membro della famiglia. È stato allevato in casa, prosegue il post, probabilmente non si sa difendere, è docile e non ha paura degli umani. È stato visto l'ultima volta in via del Chiassabuio a Tegoleto. Il post è stato condiviso da tanti cittadini. Rassegna di cori polifonici nazionale alla chiesa di San Michele Aderezzo in questa circostanza senza concorso. Il servizio. Ritorna il polifonico senza concorso ma con una rassegna di cori ad ospitare tre concerti la chiesa di San Michele. Sono tre cori molto ben piazzati, diciamo così, a livello di competizioni già fatte. Insomma, sono super premiati e blasonati. Abbiamo sentito appunto il coro Calicantus di Parabiago, diretto da Ferrario, Pietro Ferrario, che è anche compositore. Apro una parentesi, compositore che è appena stato premiato anche al nostro concorso internazionale di composizione, Sibi Consoni di Genova, diretti da Roberta Paraninfo e il gruppo femminile della sezione femminile del gruppo 900, diretto da Maurizio Sacquegna. Il coro è nato vent'anni fa, esattamente, e nel 2018 abbiamo vinto con la sezione femminile il terzo premio qui al Polifonico Nazionale. Il coro si articola in due sezioni, maschile e femminile, ed oggi siamo stati ben lieti di partecipare a questa importante rassegna al posto del Polifonico Nazionale. Un onore grandissimo riuscire ad essere nelle prime posizioni di un concorso di rilevanza internazionale, per cui sono felicissimo di questo risultato. Nasce come coro di voci bianca all'interno della struttura dell'Accademia Vocale di Genova, appunto che è un percorso formativo attraverso la musica corale e parte appunto con i bambini, per cui molti dei ragazzi che oggi hanno cantato hanno iniziato come bambini quando avevano 4-5 anni, insomma, quindi è già una buona fetta della loro vita che fanno coro, ecco, e adesso sono diventati coro misto, giovanile, adulto, insomma, l'età sta tra i 20 e i 30 anni. Grazie a tutti. Concludiamo con una notizia di sport, calcio femminile di Serie B. L'Arezzo è attesa a Verona nel prossimo match. Mancherà Paganini in conseguenza all'espulsione che ha conseguito negli ultimi minuti della scorsa gara. Casalinca contro il San Merino terminata in parità 1-1. Le aretine con questo risultato hanno interrotto la serie di quattro sconfitte consecutive. domenica affronterà l'Ellas di Verona. Le amaranto del tecnico Mike Heracleus sono chiamate a un'altra prova di orgoglio contro una formazione che staziona a ridosso delle posizioni più importanti e più alte della classifica. Questa era l'ultima notizia per questa sera. Grazie per averci seguito. Buona serata con i programmi di Arezzo TV. Grazie per averci seguito.